salve ragazzi questo è il tentotto e siamo su d'un 3 stavo facendo questa cosa che stavo praticamente facendo potrei farlo anche manualmente cioè potrei farlo in automatico lascia nooo ho sbagliato ho sbagliato un attimo raga dobbiamo buttare sti cosi tossici scusatemi si mi sento quando giocavamo tempo fa adesso mi sembra che non ci stanno manco più i così ma se io faccio questo ah ma lo fai in automatico vabbè dimmelo cioè in realtà l'avevo capito però l'ho dovuto fare perché non mi faceva passare per di qua vedi abbiamo perso altri uomini la squadra bravo riesce a malapena a resistere coming sta arrivando cosa sta arrivando troppo strano che non no c'è qualcosa che non può come mai che qua come mai che qua grazie mo grazie mo ah posso usarlo adesso oh grazie per la cura ma mi scusi ma io no madonna quante quante cose di sicurezza qua però no no devo capire no dice la posizione è bloccato come è bloccato mi sono perso no 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 guarda mi stai trollando a caso a caso grazie ma a caso la prima volta non lo so non so ne che cosa ho cliccato un 1 3 4 ho letto 1 2 3 2 0 1 3 no niente era giusto per verificare non lo so raga no 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 madonna spezzorista lo so cazzo carriola ha fatto voperto ha fatto la capriola ha fatto la capriola ha fatto ha fatto la capriola lo so non mi può dire perché è perché con giochi del genere si devono salvare sempre messaggio e dopo li leggo il jams che però se voi fate dei versi l'ho è che in realtà dovrei usare il pugile a pompa qui però eh non vorrei dire ma dovrei usare il pugile No, va bene. bello che avevo che avevo rischiamato a caso c'è un coso demoniaco qui ragazza qualcuno si oh però fanno male oh ma stiamo scherzando oh basta devo essere sicuro se era vivo o morto lol si preoccupa ormai mi sei passato un contorno a questo ho dei versi talmente brutti che ho cambiato idea allora ho un po di scelte da fare so che la vedo che è bloccato però potrei scendere effettivamente no mi ha salvato non mi piace andiamo per tipa no 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 ma io senti un versi brutti Oh, ma stai scherzando? E basta con questi soldati No, raga, no, no E che palle Pronto, Amma? Che stai facendo? Sto facendo una cosa, dimmi No, niente, cos'è? Che tanto? Fra poco devo scendere e mangiamo Ci sta più gioia che... Eh, lo so, visto che è brutto tempo E fra poco che la cosa La cosa è di Natale Subito, non sa che cosa Mi fa piacere, dai Mi fa molto piacere Mi è bella, però, no? Ah, la cosa è Natale Che abbiamo fatto, sì È bellissima Faccio così, ci sentiamo fra poco Che sto vedendo una cosa Ok? Tanto ora si pranzo Ciao, Amma Mi ha fatto più spaventare mia mamma Che mi ha chiamato Però è bellissimo Un katy Che mi ha fatto importante È bellissima Che mi!! Che mi ha Che mi ha doorway che mi sono Che mi ha verde Che mi cosa Che mi ve o che Come Con Cheazzi Comunque le cose sataniche sono tutte chiamate, ok. Aia, 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 c'è qualcosa di grosso lì. Madonna, no, 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 no. Ma stiamo scherzando? Ragà, avete finito, Tim. Grazie. Ragà, ho un problema, non so dove andrò. Ragà, ho un problema, non so dove andrò. ya. Ragà, ho un problema, non so dove andrò. Sì, sì. Ah, è aperto. Ditemelo. Oh, siamo in un'altra zona finalmente. Ah, è aperto. Allora, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po' perché ho voluto sentire che c'era qualcuno qui. Ok, credo che questa è zona semissicura. Mo' la stoppiamo qui, siamo una nuova zona. Ok? Quindi, io qua vi saluto. Qui del 38 al prossimo video passo e chiudo. Madonna, è stata un po' ansiosa. L'ho confesso, l'ho confesso. L'ho finito leggermente in antice rispetto agli altri video, però ce sta. Ce sta. Qui del 38 al prossimo video passo e chiudo. No, sto realizzando quanto tempo è passato. No, in realtà poco. Però, la stacchiamo che provo che ora era di, appunto, uscita, che ora era di pranzo. Qui del 38 al prossimo video passo e chiudo. Qui del 38 al prossimo video passo e chiudo.